Ovviamente ci sono anche altri aspetti che accenno ma non approfondisco. Ovviamente dire il melograno fa bene perché un estratto di melograno ha dato certi effetti o viceversa è già un punto critico perché in letteratura c'è un'altra colpa che do alla mia categoria c'è una forte differenza tra quello che viene testato nei laboratori e quello che poi viene effettivamente messo in vendita. Si trovano un sacco di lavori sugli estratti di tè e pochissimi lavori che sono stati fatti usando la concentrazione di sostanze che ci sono all'interno di una tisana. Usare l'estratto di tè mi permette di avere un risultato molto più rapido e quindi un lavoro più facile da pubblicare e nell'altro caso mi metto in una situazione più complicata che però sarebbe molto più vicina alla mia realtà. Io ho scritto un estratto di mirtillo e non è un mirtillo perché quando io faccio un estratto di mirtillo ad esempio tolgo tutta una serie di sostanze che rendono diverso ad esempio il suo assorbimento però questo è un aspetto che non approfondisco. Mentre invece le domande a cui dare risposta sono quanti e quali polifenoli o derivati dei polifenoli girano effettivamente nel mio sangue quando li assumo con la dieta quando ne mangio. Cosa sappiamo della loro effettiva biodisponibilità? Quindi come vengono trasformati, come vengono distribuiti, per quanto tempo queste molecole rimangono nel mio corpo e come possiamo trovare una soluzione al problema della differenza tra le concentrazioni sperimentali e quelle fisiologiche con un obiettivo possiamo migliorare quello che stiamo facendo vedremo che alcune delle cose che stiamo facendo non sono sbagliate, sono solo spiegate male ma dal momento che sono spiegate male poi vengono messe in pratica in una maniera imperfetta che andrebbe e potrebbe essere ottimizzata. Come ho detto prima, i polifenoli hanno una biodisponibilità che è molto più complessa di quella degli altri metaboliti vegetali. Il passaggio tra l'ingestione e la distribuzione all'interno dei tessuti ha una serie di tappe e in molte di queste tappe intervengono delle trasformazioni perché sia una prima, più labile e debole trasformazione a livello dell'intestino tenue se ne è una molto più consistente a livello del colon che sarà il posto un po' buio, sporco e poco attraente ma fondamentale per questo discorso che andremo a esplorare nei prossimi minuti e a vedere che a livello del colon si ha il grosso di queste trasformazioni e poi altre trasformazioni che riguardano il feto. Quindi passaggi vari di fase 1 e fase 2 che sono presenti ma accenneremo solo come entità saranno proprio il focus vero e proprio delle prossime slide. Fino a 15-20 anni fa, non tantissimo tempo fa, il ruolo del colon era principalmente definito come un posto in cui viene riassorbita acqua che si è prodotta o che è stata investita diciamo così nei processi digestivi, vengono riassorbiti i sali e si hanno alcune operazioni che portano a eliminare definitivamente gli scarti della digestione. Invece negli ultimi anni abbiamo scoperto che questo posto è molto più importante di quello che si pensasse in particolar modo perché è abbondantemente popolato. Qui si può aprire una discussione su che cosa siamo, anche filosofica, su che cosa siamo noi su che cos'è il nostro patrimonio genetico, visto che era saltato fuori parlandone a pranzo con Marco poco fa. Se io avessi un intestino completamente sterile, quindi privo di una flora intestinale, sarei un uomo morto. Però sarei un uomo costituito esclusivamente da cellule umane e quindi sarei, come dire, geneticamente puro in quanto specie Homo sapiens. Tutto il contributo genetico e di attività e di capacità di trasformare molecole che ha la mia flora intestinale è un qualcosa che è essenziale per la mia sopravvivenza. E quindi noi, oltre a non essere mai soli e avere sempre compagnia quando mangiamo, siamo come esseri viventi contemporaneamente Homo sapiens più la somma di un numero enorme e una varietà enorme di microrganismi che vivono soprattutto all'interno del colon. Questi microrganismi sono distribuiti lungo il tratto digerente e nel colon hanno la loro concentrazione maggiore. E così, giusto per dare qualche numero o qualche idea, il numero di cellule, il numero di cellule microbiche presenti nel colon è dieci volte superiore a quello della somma di tutte le cellule del resto del corpo. Tutte insieme hanno una capacità metabolica, quindi una capacità di trasformare sostanze chimiche che è circa cento volte a quella del fegato. Sono presenti in maniera concentratissima, un centimetro cubo di, chiamiamola, massa colonica può arrivare ad avere dieci alla dodici cellule, concentrazione, e soprattutto è un'entità estremamente biodiversa perché non sappiamo neppure con precisione quante specie siano presenti. Le stime ultime parlano di almeno 1200 specie, ma molte di queste specie non le conosciamo neanche, non sono neanche state identificate, non possono essere cresciute su una piastra petri, non sono culturabili, sono difficili da distinguere dalle altre. Comunque è la flora intestinale, il microbiota, la microflora, chiamiamola come vogliamo, un'entità molto diversa, quindi con un gran numero di microorganismi differenti tra di loro, ognuno dei quali è in grado di fare meglio di altri alcune operazioni, in grado più di altri di fare certe reazioni chimiche, ad esempio, e in più è un'entità estremamente variabile, ovvero nessuno in questa sala ha la stessa flora micromica della persona che è seduta a fianco. E questo cambia di molto le risposte. Cosa succede quando mangiamo dei polifenoli? Cosa succede se, ad esempio, beviamo un succo d'arancia, o mangiamo una pastetta di mirtilli, o ci beviamo un tè verde? Cosa succede se facciamo quest'operazione e poi, con periodi di tempo periodici e ritmici, ci facciamo fare un'analisi del sangue? Quindi io mi bevo il mio tè, mi bevo il mio succo di melograno, poi dopo ogni due ore mi viene fatto un piccolo pregio reumatico e viene fatta un'analisi per andare a monitorare le sostanze che compaiono nel mio sangue a seguito dell'assunzione di quello che ho mangiato. La prima cosa che compare è un piccolo, usate il gioco di parole, molto basso e che ha una vita di poche ore relativo ai polifenoli che effettivamente ho assunto. Io bevo un tè verde e quella è l'evidenza della presenza di catechine all'interno del mio sangue durante quel periodo. Ha un ordine di concentrazione nanomolare, che vuol dire molto molto poco. Successivamente invece iniziano a comparire delle altre sostanze che sono, dovrebbe essere già chiaro adesso, quelle che formano quella specie di montecervino segnato in rosso, i metaboliti microbici. Sono il risultato della biotrasformazione dei polifenoli del tè che ho bevuto operata dalla flora microbica intestinale. È una quantità molto maggiore, molto più elevata, con differenze di uno o due ordini di grandezza in alcuni casi e soprattutto è una presenza che è molto più lunga nel tempo. Ad esempio, se io bevo diciamo che io bevo il tè alle 5, come da tradizione, se io bevo il tè alle 5 tutti i giorni, avrò per circa tre ore la presenza del mio sangue di alcune catechine del tè. Ma il giorno successivo, quando io bevo il mio secondo tè alle 5, non ho ancora finito di smaltire i metaboliti del tè prodotti dalla mia flora microbica intestinale. Che vuol dire che in un caso ho, come dire, dei flash, ce n'è un po', poi per lunghe ore non c'è niente, poi ce n'è un altro po', lunghe ore non c'è niente. Nel caso invece dei metaboliti microbici queste sostanze sono presenti nel mio organismo sempre se io assumo regolarmente questa sostanza. Vuol dire che sono sempre in giro del mio sangue, vuol dire che sono sempre visibili alle cellule del mio organismo, vuol dire che sono anche in grado di concentrarsi ulteriormente per un effetto di reciclo enteroepatico. quindi sono quantità che se io assumo sono sostanze la cui quantità in caso di assunzione prolungata è costante regolare, cioè assicura sempre una presenza e anche una concentrazione progressivamente elevata. Il problema della ricerca scientifica fino a non molto tempo fa è stato che i saggi in vitro o le prove sugli animali o le valutazioni che venivano fatte erano tutte concentrate sulle molecole blu e non sulle molecole rosse. Perché questo? Non per una come dire cattiveria ma perché non sapevamo che avvenissero qualche trasformazione e non eravamo mai andati a vedere quale fosse il risultato di queste trasformazioni cioè non sapevamo quali molecole andare a cercare. Questo grafico io lo posso costruire se so quali sono i prodotti della mia trasformazione se so che la molecola X si trasforma nella molecola Y io posso andare a cercare la molecola Y se la molecola Y non so come è fatta non so che esista è molto difficile che io la la vada a trovare. Quali sono queste molecole con qualche numero? Mangiamo flavonoidi la quercetina ad esempio la quercetina viene trasformata quasi completamente con differenze tra l'altro che riguardano anche il tipo di zuccheri che possono essere legati al flavonoide all'interno del glicoside e il grosso viene trasformato in molecole molto più piccole come quegli idrossiacidi che sono elencati di sotto. Sono quelle le molecole che io trovo più abbonanti nel sangue quando assumo dei flavonoidi. La biodisponibilità effettiva quindi la percentuale di quercetina che io trovo nel mio sangue rispetto a quella che assumo con la dieta è nel migliore dei casi circa il 3%. Vuol dire che il 97% diventa qualcos'altro si trasforma in qualcosa di completamente diverso. Lo stesso se mangiamo delle arance nell'arco di otto ore il 35% della speratina presente in un succo d'arancia diventa l'acido di idroferulico che è quello diciamo più abbondante. Ancora lo stesso avviene per gli antociani oltre l'85% degli antociani non viene assorbito a livello di un teschino tenue così com'è ma procede dritto fino al colon finché non si scontra con la flora microbica e viene trasformato. La sua la disponibilità degli antociani è diciamo infinidesimale è estremamente estremamente piccola per cui una piccola parentesi su cui torniamo più avanti. Se vi faccio un saggio di attività antiossidante sugli antociani e dico la etonidina la delfinidina l'estratto liquido in delfinidina ha un'attività antiossidante 150 produco un'informazione che valida ha un senso ma non vale se io la considero riguardo a quello che succede dentro il mio corpo perché una volta che quella sostanza è arrivata al colon si trasforma in un qualcos'altro e quindi quel dato per spiegare qualcosa che succede nel sangue di fatto di fatto non mi serve. Ovviamente e qui lo accenno con le trasformazioni più è grande della trasformazione mentre più è piccola la molecola più le trasformazioni sono limitate come avviene con gli acidi fenolici andrebbe sempre considerata poi l'ulteriore trasformazione che fa il fegato visto che queste molecole non girano così ma girano legate sempre legate a qualcos'altro. Un caso che approfondiamo di più e visto che ho citato melograno più volte aveva un motivo è quello degli elagitannini che sono i tannini che caratterizzano appunto ad esempio il melograno. Quasi il 90% degli elagitannini arriva non assorbito fino al colon. Arriva fino lì non viene assorbito e subisce forti trasformazioni che prevedono una specie di sequenza cioè la prima operazione prevede che vengano tolti gli zuccheri che ci sono intorno si forma una molecola che poi viene leggermente ritrasformata fino a dare acido illagico. L'acido illagico viene assorbito in piccola quantità mentre il grosso subisce delle trasformazioni che prevedono una sequenza precisa cioè si formano sempre prima quella sostanza la prima che si incontra seguendo le frecce che è l'urolitina D poi successivamente si forma l'urolitina C l'urolitina A e l'urolitina B le quali vengono assorbite vengono legate a un zucchero legato a un solfato per aumentarne l'assorbibilità a livello del nostro organismo all'interno dell'organismo quindi vengono ulteriormente trasformate e se ne vanno in giro per il nostro corpo una caratteristica di queste sostanze che vengono eliminate abbastanza lentamente dal nostro corpo hanno una curva che è ancora più estesa di quella che abbiamo visto prima perché continuano a essere presenti in concentrazioni diciamo sensibili concentrazioni micromolare quindi sono un ordine di grandezza maggiore rispetto a quelli dei loro precursori all'interno del sangue sono presenti per 36 ore vuol dire che rimangono in giro nel nostro organismo a speriamo a fare del bene a fare delle cose positive per un periodo molto lungo prima di essere eliminate in genere tramite le urine ricordatevelo questo perché tra breve lo riprendiamo qui in sintesi c'è una descrizione dei passaggi dei caselli che i polifenoli incontrano quando vengono assunti per via orale non subiscono trasformazioni particolari a livello del cavo orale gli enzimi presenti nella saliva non incidono particolarmente nella loro struttura resistono abbastanza bene alle condizioni acide dello stomaco quindi fin qua non abbiamo molte operazioni da fare iniziano a perdere ad esempio alcuni zuccheri a livello dell'intestino tenue che stacca degli zuccheri e poi li assorbe ma non assorbe la parte diciamo non zuccherina della molecola tutto quello che resta arriva al arriva al colo arriva all'intestino crasso dove avviene il grosso delle trasformazioni questo schema si ripete più o meno tutti i polifenoli subiscono questo tipo di passaggi gli elercitannini sappiamo sono presenti nel melograno sono presenti nelle noci sono abbondanti molti frutti rossi e sono considerati sostanze in grado di esercitare un'azione protettiva a livello del sistema circolatorio più in qui diciamo c'è più in dettaglio con proprio le tipologie di reazioni chimiche che li che li riguardano ed è più o meno lo stesso che si incontra qua come un esempio pratico io mangio un cestino di fragole non in stagione facciamo anche primavera e ci sono le fragole di stagione circa 300 grammi di fragole consentono di assumere una quantità 140 150 micromolare di acido elagico e di elacitanini i quali vengono in parte idrolizzati c'è un piccolo assorbimento a livello gastrico ma molto molto basso di acido elagico dopo 6 ore nel corso della digestione l'acido elagico sparisce dal plasma viene quindi eliminato dal nostro metabolismo esmentito tramite le urine e iniziano a comparire i nostri metaboliti con la sequenza che abbiamo visto prima quindi le diverse urlittine vengono prodotte dall'intestino ovviamente non è così semplice perché i diversi tannini che sono presenti sono sensibili sono oggetto delle attenzioni di microrganismi diversi di microrganismi